Un'oase di speranza e di cura per chi vive in condizioni di difficoltà economica. È l'ambulatorio solidale di Martina Franca, che vive grazie alla generosità di 45 medici che offrono gratuitamente le loro prestazioni a persone con ISEE inferiore ai 9.000 euro. Un servizio prezioso che risponde all'esigenza di salute di chi non può permettersi visite specialistiche. Troppo spesso, infatti, le lunghe liste d'attesa del sistema sanitario pubblico diventano un ostacolo insormontabile. Soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Il nostro obiettivo è proprio quello di aiutare le persone che non riescono ad accedere alla sanità. Intendo dire che se una persona va al CUP e al CUP gli dicono che è la prima visita possibile dopo un anno, se uno ha i soldi prenota una visita medica a pagamento. Se uno non ha i soldi si gira dall'altra parte e non può farsi visitare. In questa situazione deve venire da noi, dove gli offriamo la visita specialistica e gratuita. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Una farmacia solidale. I nostri medici hanno notato che quando prescrivono dei farmaci ai pazienti con ISEE inferiore ai 9.000 euro, spesso loro dicono che non riescono a comprare questo farmaco, a meno che non sia un farmaco dispensato dalla ASV. Allora abbiamo deciso di raccogliere, acquistare e trovare farmaci di fascia C, che sono quelli non prescrivibili dalla ASV, e darli gratuitamente dietro prescrizione di vari nostri specialisti. Grazie. Grazie.